Ho tre obiettivi che sono fantastici per il portrait, per i ritratti. Quando devo andare fuori per una shoot o per un video non so mai quale utilizzare. Perciò oggi ho deciso di fare un test per vedere quali sono i punti di forza di un obiettivo piuttosto che un altro. Gli obiettivi che testo oggi sono Nikon Nikkor 85 F2 Ice, quello vintage manuale. Carvace Planner sempre manuale 1.4. Carvace Planner medio formato 80 stavolta, gli altri due sono 85, questo è un 80, F2.8 dell'Asselblad. Una differenza sicuramente a livello proprio tattile è il rig della messa a fuoco, che in questi due, nel Carvace con fronte a Nikon, è molto più preciso. È molto più preciso per avere un fuoco molto più accurato per i video, diciamo che è molto utile. Questo Nikon non è che non abbia un fuoco accurato, ma è molto più, non so, forse è l'usura, ma comunque il mio, quello che ho io, è molto molto più, pone meno resistenza, quindi si rischia di passare il punto di fuoco perfetto. Comunque adesso li guardiamo assieme. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.